Continuando io, banalmente, ti avrei chiesto, va bene, allora a questo punto raccontaci, parlaci del branco, della dispersione, però leggendo il libro che ho letto, poi consiglio a tutti di farlo, peraltro, io mi sono accorta che tu vuoi, vero, perché se no non l'aveste scritto, che il tuo libro venga letto, però vuoi anche che venga letto in un determinato modo, tant'è che a pagina 11, quindi abbastanza all'inizio, tu dici come leggere questo libro, ma prima ancora tu dai dei precetti, dai tre precetti proprio per leggere questo libro, che sono conoscere, comunicare e sensibilizzare, vuoi dirci qualcosa di più invece, per poi arrivare, e come questo si aggancia a branco, alle dispersioni, a tutto questo. Sì, sì.